Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A12 traffico bloccato a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud. Sempre in A12 segnaliamo personale su strada per lavori allo svincolo di Colle Salvetti. In A11 segnaliamo che l'area di servizio di Peretola Sud in direzione Firenze ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Sulla FIPILI lavori tra Livorno Porto e D'Assena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla Provinciale 131 di Bilancino senso unico alternato restringimento di carreggiata a tratti saltuari lungo tutta la tratta. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!